Il grande viaggio di Springtrap. Questo è il seguito che ho dato alle avventure di Freddy e Foxy del 2021, dove io utilizzavo dei Funko Pop e dei pupazzi di FNAF. Alla fine dell'ultimo episodio, il quindicesimo, vediamo Springtrap e i tuoi bonni che sono lì riuniti e devono capire bene che cosa fare. Nel seguito, appunto, i due dovranno cercare il guffo embe e riportare tutti quanti alla normalità. Io, dopo quel video, per i mesi successivi, quindi da agosto barra settembre fino a gennaio, ho pensato a tantissime idee. E questo ha rovinato tutto. Il grande viaggio di Springtrap è la serie più problematica che io ho fatto. Non parliamo di let's play, ma sì, a differenza dentro di Freddy e Foxy, lo metto anch'io, non è un granché. Ho già pubblicato un post dove lo criticavo dicendovi che sono veramente molto deluso, però voglio dirvi bene perché. Sapete, come quando tu vuoi fare un seguito, vuoi fare le cose in grande, vuoi mettere più personaggi, devi ordinare i pupazzi, eccetera, aspettare i camasutelli in V. E io, ragazzi, in quei mesi non riuscivo ad aspettare. È vero, avevo detto che non usciva a gennaio, forse usciva a marzo, aprile, vattela pesca. A causa delle idee che avevo in mente e tutte le volte che ho cambiato la trama, il finale, i personaggi, tutto quanto, si è tutto sminchiato. Springtrap doveva essere un antieroe, ma poi è stato cambiato. Ma un gomenichetto doveva essere tipo una specie di agente segreto che doveva vendicare Roxanne Wolf. Shadow Freddy e Shadow Bonnie doveva essere la coppia omosessuale. Circus Baby e Left dovevano essere specie di rivali, ma poi comunque stavano insieme, eccetera. Un botto di idee, cancellate, riapparse, tutto così. Fare i video con i Funko Pop, come faccio io, non è per niente facile. Provateci, è difficilissimo. Sembra stupido, ma cavolo è più impegnativo di fare un semplice gameplay. Io ho molta immaginazione, ho pensato a una trama veramente grande, ora che guardo gli episodi e dico perché nel secondo c'è Pinguino che guarda Star Wars, perché quei dialoghi, perché quella litigata dell'episodio 7 deve durare così tanto, perché Rainbow Stitch, perché così, cosa c'entra? Ecco, il problema sono soprattutto ciò che ho fatto. Ora vi leggo gli errori, Pinguino e i suoi scagnozzi durano fin troppo, come tutta quanta la serie, Pinguino non l'ho mai pensato di renderlo l'antagonista principale, in realtà sarebbe Montgomery Gator, ok? Questo è spoiler, ma si era capito già da tanto. Rockstar Fred doveva arrivare molto prima, però mi è arrivato dopo, giorni e giorni e giorni, quindi non si poteva fare. Ci sono un botto di scene inutili, ok? Tanti momenti che io proprio non riesco ad apprezzare. È una serie stra-mega lenta. Il motivo? Non ho mai creato un copione scrivendo le trame. Mai. Avevo tutto quanto in testa? Non penso essere l'unico a dire che forse ha bisogno di un reboot o un remake totale, perché io non so neanche il perché ho scelto di cambiare così tanto la trama. Quello che avete visto è un miscuglio di cose che ho pensato. Se avete ben notato, sprint non è neanche il protagonista vero e proprio. Certo, ha aiutato i tuoi bonni, ma pure i tuoi bonni, ragazzi, prima era diversissimo, avevo pensato un botto di cose, però ragazzi, sono io che preoccupandomi pensavo, ma piacerà? Andrà bene? Bene, non lo so. Lo so che voi nei commenti mi direte, sì, tranquillo, andrà tutto bene, però ragazzi, io odio il grande viaggio di sprintrap. Io non potevo neanche iniziarlo troppo tardi, perché non so se tipo in estate andrò in vacanza o non ne ho idea, ma io, gente, non posso più aspettare. Non posso aspettare a fare una live o dire, eh, non mi piace, eccetera. Si vede che ha tanti problemi, ma molte persone hanno criticato più questo sequel rispetto all'avventura di Freddy e Foxy, che era molto più movimentato. Se io voglio fare una serie del grande viaggio di sprintrap, voglio che sia azione, avventura, a volte con qualche comicità e altro. E io ho detto pure, evitato i minori, evitato i minori cosa? Soprattutto Nightmare Freddy e Nightmare Bonnie che occupano tipo metaserie per la loro storia, soprattutto Nightmare Bonnie che sembra più il protagonista di questo seguito al posto di sprintrap, se ci avete fatto caso, ma invece ho cambiato le cose, è tutto un casino. Lo so che mancano quattro puntate e soprattutto io che mi arrabbio per quello che ho fatto. Idee troppe idee, poco sviluppate, personaggi sì, caratterizzati forse meglio, ma boh, a caso, probabilmente potrebbe arrivare un reboot. Un reboot che le puntate dureranno anche di meno. Pinguino, Fish Face, eccetera, potrebbero esserci nelle prime puntate, poi si potrebbe passare a Rockstar Freddy e infine a Montgomery Gator, come avevo pensato, Montgomery Gator potrebbe avere un ruolo molto molto più figo, invece di quella, oh Dio, ho perso la memoria, eccetera, che non si capisce, ma scusa, è quello e quell'altro. Sì, Monty è un cattivo previdibile. Io devo pensarci, non lo so se continua, non so se ricominciarla, ma sì, sono deluso dal grande viaggio di sprintrap.